Il Tribunale federale nazionale ha preso la sua decisione in merito al processo sportivo di primo grado per le presunte combine da parte di ex tesserati bianco-verdi di Modena, Avellino e Avellino-Regina del maggio 2014. Nessun vizio di forma relativo alla perentorietà dei termini di notifica dei deferimenti. È arrivata la sentenza, 50.000 euro di ammenda e tre punti di penalizzazione in classifica per la società irpina a fronte della richiesta di sette da parte della Procura federale. Una riduzione determinata dal decadimento dell'accusa di responsabilità oggettiva per Avellino-Regina, per cui non sono stati individuati i cosiddetti venditori. Cinque anni di squalifica per Luca Pini e Francesco Mellesi, diciotto mesi di squalifica per Armando Izzo, punito sì, ma per omessa denuncia. E a proposito di omessa denuncia, in particolare di Modena-Avellino, Prosciolti, Luigi Castaldo, Mariano Arini, Raffaele Biancolino e Fabio Pisacane, oltre a Walter Taccone, lo stesso presidente dei Lupi, ha commentato direttamente dal Partenio Lombardi la sentenza, preannunciando la volontà del club di ricorrere in appello. Sono veramente punti che ce li siamo guadagnati sul campo, per cui vederseli togliere in un'unica soluzione non fa bene. Cioè scendere di tre punti, la 44, la 41, una cosa non mi piace. Allora dobbiamo andarci a prendere i tre punti a Pisa e dobbiamo rimetterci i 44 punti che avevamo ieri. Non c'è stato nessuno dell'Avellino, secondo me, che ha fatto niente di illecito, per cui i tre punti ce li andremo a giocare sicuramente in appello e speriamo che si fermi lì e di non andare addirittura all'ultimo grado al CONI. Anche un solo punto di penalizzazione e lascio l'Avellino. Aveva sbottato il numero uno della società, non appena era esploso il bubone giudiziario. Un concetto ribadito a chiare lettere anche quest'oggi. Aspetto maggio, non c'è dubbio, ma sono convinto di questo. Se l'Appello non ci darà ragione e l'Avellino dovesse avere dei punti, trovatevi un altro presidente.